22 anni di attività del Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo, il primo sportello di questo genere attivato nella Diocesi di Chiavari, un servizio prezioso che ha trovato sede nei locali della parrocchia di Sant'Anna. L'identità e l'attività di questo gruppo che svolge un servizio a livello socio-caritativo molto importante nella città di Rapallo e non solo. Abbiamo iniziato 22 anni fa e ci ha accompagnato il CAV di Recco per fare proprio i primi passi del CAV di Rapallo. Le esigenze a cui sopperiscono i volontari del CAV sono innumerevoli, vanno dal sostegno alla maternità all'aiuto alle famiglie con figli nei primi anni di vita dei bambini. Sebbene la città di Rapallo sia considerata una città con una quantità e una media di reddito alto abbiamo la bellezza di 108 famiglie che sono venute a chiedere aiuto a noi, tutte documentate perché chiediamo relazione dello stato del disagio oppure ISE e soprattutto che abbiano dei bambini piccoli. Oggi il CAV rapallese che opera nei due sportelli di Rapallo e Santa Margherita Ligure affronta le nuove sfide dettate dal tempo presente con una presenza più frequente e un'assistenza più capillare. Un tempo erano soprattutto mamme incinte e bambini molto piccoli, poi col tempo col mutamento della condizione sociale sia a Santa Margherita che a Rapallo lo spazio di attività si è molto ampliato. E quindi il ruolo, diciamo, avere un medico, avere un pediatra serviva anche proprio per poter garantire anche la fornitura di farmaci da banco, comunque di poter dare un consiglio e anche per questo giusto poi siamo affiliati al Banco Farmaceutico. Siamo aperti lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9.10 a mezzogiorno.